Recentemente si è tornato a discutere di una questione non nuova nell'ambito della società letteraria, ovvero dei rapporti di amicizia, che in taluna circostanza possono risultare, almeno all'esterno, dei veri e propri rapporti di interesse. Si è utilizzato a questo proposito il termine amichettismo per indicare quello che all'esterno sembra un vero e proprio continuo scambio di favori, che genera una specie di cortocircuito che definisce un ambiente autoreferenziale di autori che si recensiscono a vicenda, si invitano ai propri festival, si sponsorizzano, si scrivono l'un con l'altro le fascette e così via. Così quello che una volta poteva essere forse definito una sorta di salotto letterario sembra quasi essere diventato una sorta di privé esclusivo, al quale si può accedere soltanto se si appartiene alla stessa agenzia letteraria o alla stessa casa editrice, se si dirige una collana importante oppure un festival o una scuola di scrittura dove di tanto in tanto si invitano degli scrittori illustri appunto per parlare di loro, della loro opera e così via. Verrebbe da pensare che questo circuito autoreferenziale in fondo non faccia altro che generare, diremmo così, forse delle plusvalenze letterarie per stare un po' all'attualità. Orca miseria, ho fatto riferimento al calcio anche oggi, non se ne può più. Per, insomma, accreditarsi a vicenda, per attribuirsi e confermarsi nel proprio valore letterario, nel proprio prestigio. Affrontare un simile argomento senza toni moralistici non è semplice, ma ci proviamo. Il problema del resto è abbastanza evidente. Chi può permettersi di distinguere la vera e sincera amicizia, il rapporto di stima, dal puro gioco di interesse? Credo che nessuno possa permettersi di entrare in questo ambito. E allora offriamo semplicemente delle osservazioni iniziali, per poi però dare cinque contributi essenziali, definire cinque modalità che in qualche modo forse sarebbero degli ottimi suggerimenti per cercare di interrompere, se non altro, questa impressione che tante volte si ha nel mondo letterario. E si va di bene che questa impressione ovviamente si può avere sia nei confronti degli ambiti più in vista, quindi tra i personaggi più illustri, tra i VIP della letteratura, ma anche all'interno di quello che qualche volta si definisce, lo ne abbiamo già parlato, il sottobosco letterario, quindi ad un livello anche più basso. Detto questo ricordiamoci che però è anche ovvio che maggiore è il potere che si gestisce, il prestigio che si ha e maggiore è la responsabilità rispetto ai propri comportamenti e alla gestione sicuramente della propria figura. Intanto stiamo chiamando in causa una parola amicizia che, ahimè, in italiano ormai è diventata ambivalente. Se parliamo di amici sappiamo bene che dovremmo indicare con questo termine soltanto un rapporto veramente esclusivo. Dovrebbero essere considerati amici soltanto poche persone, col quale si ha effettivamente un rapporto intenso e anche una frequentazione abbastanza costante. Quante potrebbero essere? Le persone che qualcuno potrebbe rinnoverare negli amici penso che stiano soltanto in una mano, ma non entriamo adesso nei campi della sociologia o della psicologia. Riconosciamo però che tante volte noi con il termine amici sconfiniamo qualche volta in territori minati. In italiano avere degli amici o avere delle conoscenze tante volte significa avere dei santi in paradiso, avere dei contatti, avere delle possibili leve per poter accedere a qualche piano superiore nella propria eventuale carriera. E allora sarebbe bello che cercassimo tutti quanti di abusare un po' meno di questa amicizia e di sostituirla con altri termini. C'è tutta una costellazione di valori che possono avere senso in questo ambito e quindi si potrebbe parlare di stima, di ammirazione, di conoscenza. Peraltro questi termini sono belli anche perché adatti a persone che per esempio non fanno parte della stessa squadra, della stessa linea culturale, della stessa tendenza, della stessa corrente, ditelo come volete. Si può quindi stimare e ammirare anche uno scrittore che per esempio è posizionato su idee, su contenuti, su forme o magari su stili completamente diversi rispetto ai nostri. Ciò detto, quali potrebbero essere delle buone pratiche da suggerire per evitare se non altro di rendere un'idea sbagliata dei rapporti di stima o di eventualmente di amicizia che ci sono e quindi di dare l'idea di questo stringersi in un gruppo chiuso ed autoreferenziale. Provo a dare qualche suggerimento. La prima idea è quella di giocare a carte scoperte, raccontare, esprimere quali sono i rapporti che legano determinate persone. Tante volte sembra che siano soltanto gli esperti a vedere e magari a scoprire e quindi poi a denunciare magari anche in termini sbagliati quelli che sono dei rapporti costanti tra chi appunto per amicizia, per stima o per qualsiasi altro motivo recensisce un autore, ne pubblica un altro, ospita nei propri spazi un altro ancora e così via. Occorre giocare a carte scoperte, occorre mostrare questi rapporti, non perché si debbano giustificare, ripeto, ciascuno è libero di scegliersi i propri amici, di frequentare le persone che crede e così via, ma per non cercare di velare di mistero, di segretezza, quello che invece deve risultare assolutamente naturale e spontaneo e quindi anche bello e giusto. Seconda considerazione, occorre comunque in questi rapporti un minimo di moderazione e di sobrietà. Questo vuol dire che qualche volta forse qualche rinuncia è pur necessaria. Per quanto io possa stimare quell'autore, forse bene che non sia sempre lui il punto di riferimento. Non è detto che ad ogni mio intervento critico debba citare i soliti amici, è opportuno considerare bene i termini e i modi in cui si elogiano queste persone. So che per necessità di attirare l'attenzione tante volte si eccede con uno stile un po' giornalistico ed esorbitante per cercare di fare notizia e allora si grida al capolavoro, alla migliore opera di un autore. Ecco, forse anche nello stile con cui si dimostra la propria stima, il proprio apprezzamento per il lavoro degli altri, si possono cercare i toni adatti per moderare appunto e rendere anche in questo modo un po' più credibile il nostro stesso discorso. Con questo entriamo nel merito del terzo suggerimento, in modo più preciso, oltre alla rinuncia a qualche occasione che può sembrare un continuo e ripetuto scambio di favori, direi che proprio occorre separare bene l'amicizia che si rivolge, che si ha per una persona, con l'opera di quella stessa persona. In parole semplici diremmo che piuttosto che elogiare è importante argomentare. Anche qualora fossimo veramente estasiati e colpiti dalla bellezza del lavoro altrui, proprio perché si tratta di un amico, forse è il caso di abbassare i toni e di spiegare e di convincere attraverso un vero e proprio lavoro critico perché quella determinata opera, perché quel percorso di un autore risulta così importante, determinante, bello ai nostri occhi. Quarta considerazione. L'amico non è soltanto colui che testimonia il nostro valore. In generale, in questo mondo, nella vita di chiunque, ma soprattutto forse in ambito letterario, noi abbiamo profondamente bisogno di amici, nel senso appunto di testimoni del nostro valore, di persone che dimostrano interesse verso quello che stanno facendo e stima per i risultati che stiamo raggiungendo. Ma l'amico è anche il testimone del tuo valore, nel senso che quando percepisce che tu magari stai sbandando, stai uscendo un po' fuori di strada, bene, ti ricorda chi sei e dove stai andando, quali sono le tue potenzialità, quali sono i valori su cui la tua identità e quindi anche l'amicizia si fonda. E allora cominciamo a dirci che un vero amico è anche colui che può criticare la mia opera, se non vede mai nessun punto d'ombra, se si limita soltanto appunto come dicevamo prima a elogiare, rischia in questo modo di arrivare alla semplice adulazione e non è amicizia. Quinto suggerimento, se ci si spende direttamente in prima persona per l'opera di un amico, perché davvero ci si crede, occorre dimostrare che il proprio lavoro è davvero finalizzato alla difesa di un bene grande, di un bene comune, non soltanto di una piccola comunità. Ecco allora che questo circuito di, tra virgolette, amicizie, conoscenze, rapporti, questi gruppi letterari, queste correnti, definitele come volete, devono per essere credibili dimostrare di rimanere aperte, pronte a riconoscere sia il valore altrui in quanto diverso nelle prospettive, nei presupposti culturali, nelle scelte formali, stilistiche, contenutistiche che si compiono, sia per esempio per valorizzare autori nuovi, emergenti, di qualsiasi età, ma che comunque nei quali si riconosce una nuova possibile concretizzazione dei valori e delle idee che si stanno difendendo. L'amicizia nella vita è sicuramente un valore immenso e ce ne rendiamo conto anche in ambito letterario e quindi va difeso. Non dobbiamo ridurlo a forme di amichettismo e quando questa impressione si crea è nostro dovere combatterla, combatterla con la testimonianza, ripeto, non per una necessità semplicemente morale, ma anche in ambito puramente letterario per difendere la propria credibilità. Perché d'altronde, se siamo scrittori, le parole per noi richiamano dei valori e quindi le parole e i valori vanno difesi, vanno mantenuti nella loro autenticità, non si possono mistificare. Di amici abbiamo tutti quanti bisogno, ma come abbiamo detto l'amico è anche il testimone della nostra postura esistenziale, è colui che veglia sui nostri possibili sbandamenti. Ecco, allora concludiamo ricordando un vecchio adagio orientale, cinese, giapponese, quando non si sa l'origine di un motto, basta dire che è orientale e non si sbaglia mai, è dall'oriente che arriva la sapienza che ci illumina. Questo motto ci ricorda che se non abbiamo un amico in grado di farci delle critiche, di muoverci delle osservazioni per migliorare, per crescere e quindi anche mettendoci eventualmente in crisi, bene, se non abbiamo un amico capace di criticarci, è forse il caso di pagare un nemico perché lo faccia.